A questo punto noi andiamo dalla nostra Ilaria Vanni che è per noi in collegamento dal quartiere di Tortaia per fare un po' il punto della situazione sull'edilizia popolare. Linea a te Ilaria. Linea a te Ilaria. Passiamo allora la parola per una testimonianza di quello che vivono questi residenti e insieme a noi poi c'è anche il presidente di Arezzo Casa, Lorenzo Roggi, che ci spiegherà invece quali sono le azioni che l'amministrazione sta mettendo in atto su queste abitazioni. Prego Giuliana, qual è la situazione che voi vivete quotidianamente? La situazione è che alcune terrazze ci fanno fare vivere difficoltà, tipo dei crolli di queste cose, purtroppo delle cose che fanno abbastanza male. Ci sono altri pezzi anche più rossi di questo. I bambini anche con problematiche comportamentali che non possono magari uscire oppure che escono senza nostro permesso perché non riescono a stare dentro casa, perché non riescono a capire la situazione. Purtroppo noi ci ritroviamo a sentirci dire che non possiamo uscire in terrazza perché sono pericolanti queste terrazze, ma come si fa? Anche con i panni, che si fa? Non possiamo farli asciugare né niente? Oppure prendere magari del sole io o la mia mamma che ha il 100% di invernità che non può uscire nemmeno in terrazza. Come si fa a vivere una situazione del genere? C'è questo giardinetto che è veramente pericolante, delle mattonelle che purtroppo sono messe male laggiù, io le posso anche far vedere. E quindi ecco, la problematica è soprattutto sull'esterno e sulle terrazze, quello che vivete voi? Le terrazze e anche questo parchino che non è a norma purtroppo, perché tante persone come qui la signora Anna sono cadute, ma non è caduta solo lei, sono cadute anche altre vicine di casa. Io ho dei problemi motori e rischio sempre magari di cadere, ora perché ci sto attenta, però è un grande problema. Ma soprattutto delle terrazze, dicono che verranno fatte, sì, ma sono anni che dicono che vengono fatte queste terrazze, io sono 15 anni che vivo qui. 15 anni, da 15 anni ci dicono sempre le solite cose, allora mettetene in sicurezza, è quello che chiediamo noi. Grazie, allora passiamo Maria Stella, mentre Fabrizio Cocchetti ci fa vedere anche un po' la situazione di questo cortile, passerei la parola anche alla signora Anna per una sua testimonianza. Le terrazze, poi comunque andrebbe fatto anche il cappotto, ci sono i benefici quest'anno al 100%, no? Voglio dire, qua entra l'acqua proprio nelle case, se voi vi affacciate dall'altro lato è pieno di umidità, c'è gente all'ultimo piano che con le bacinelle a terra che pende l'acqua in casa. Però comunque fanno orecchio di campana. Io sono entrata in casa tre anni fa con un oblò nel bagno rotto. Niente, mi hanno detto, eh, dobbiamo vedere, costano 1500 euro. Io sono tre anni, quest'anno ho pagato 1600 euro di riscaldamento per stare ghiacciata, perché c'è un buco così e non mi è stato fatto. C'è un marito con disabilità, gli infissi, gli infissi sono con un affare giù, no? Che non può uscire in terrazza. Mi ha una vita immortalata in quella cucina, seduto, è ipovedente e c'è una grave disabilità. Allora, grazie, ecco intanto alla testimonianza delle due residenti che si sono rese disponibili per spiegarci questa situazione. Noi però, Stella, come vedi, abbiamo cercato di creare anche un confronto. Infatti, prima di cominciare questo collegamento, è stato anche positivo poter far confrontare il presidente di Arezzo Casa e alcuni dei residenti. Ecco, Lorenzo Roggi, quali sono le azioni che voi state mettendo in campo? Allora, la situazione non soltanto qui, ma di tutto il complesso Tortaia-Montaglia-Alfieri è abbastanza complessa, come vedete. È una problematica che si trascina da anni. Ci sono evidenti errori progettuali di questi immobili. Qui si è cercato di costruire cose anche abbastanza strampalate. Gli oblò di cui parlava la signora ne sono un esempio. Chi decise di utilizzare questa finestra molto particolare non ha pensato che il produttore che la fa è uno solo, quindi ha una sorta di copyright. E la cifra è esattamente quella che diceva la signora, perché gliel'abbiamo comunicato noi. Non sarebbe stato possibile sostituirli tutti, perché sono centinaia. Quindi gli uffici tecnici di Arezzo Casa hanno studiato una soluzione interna a loro. Andremo a sostituirli con finestre alternative, partendo da quelli rotti, insomma, per poi andare a sostituirli tutti, anche per dare un'uniformità architettonica. Invece, ecco, la situazione delle terrazze che ci sottolineava la ragazza? Allora, per quanto riguarda la situazione delle terrazze, solo per darvi un'idea, nel complesso, appunto, Tortaia Montale Alfieri, abbiamo nel piano triennale degli investimenti, nel 2021, quindi quest'anno, 40.000 euro stanziati per gli oblò e 310.000 per le terrazze. Abbiamo già fatto delle terrazze campione, quindi i residenti possono vedere esattamente come le terrazze verranno trasformate. In questo caso si è aspettato troppo, questo era un lavoro che andava fatto qualche anno fa. Noi abbiamo messo in piedi uno strumento, appunto, che vale 310.000 euro e dovrebbe recuperare il 90% delle terrazze malandate per poi, l'anno prossimo, nel 2022, completare definitivamente l'opera. Ecco, grazie. Lorenzo Ruggi, Maria Stella, intanto ti chiedo se ci sono domande da parte tua, poi io avrei un'ultima domanda anche per il presidente di Arezzo Casa. Prego, Ilaria, prego. Certo, solamente da dire questo, che mi sono venuti i brividi a sentire le testimonianze delle due signore, perché, insomma, vivere così non deve essere poi così semplice, anche in presenza poi di persone che hanno gravi disabilità. Questo è chiaro, perché siamo abituati magari a sentire dei situazioni del genere in altre parti d'Italia. Ecco, qua siamo ad Arezzo. Ok, certo, questo era anche il senso di dare la voce a queste testimonianze. Per il presidente di Arezzo Casa, ecco, invece io volevo chiedere, si è parlato negli scorsi giorni, anche attraverso il sottosegretario Nisini, che rappresenta anche il nostro territorio, della nuova legge regionale che regola l'edilizia popolare. Cosa cambierà dopo l'ingresso di questa nuova legge? Allora, vi dico quello che sappiamo noi fino adesso, ovviamente, perché fino a che la cosa non diventa ufficiale siamo ancora in attesa. Il regolamento, ovviamente, non lo fa Arezzo Casa e non lo fa neanche il Comune di Arezzo, lo fa la Regione, quindi noi ci limitiamo a recepirlo. Se effettivamente succederà quello che ci è stato detto, uno dei requisiti fondamentali, ovvero la residenza da almeno cinque anni nel Comune di appartenenza per poter partecipare ai bandi, verrà tolto e quindi la prospettiva è che chiunque potrà partecipare al bando, anche se è arrivato in città, vi faccio un esempio, un mese prima, avendo preso la residenza in città, un mese prima dell'uscita del bando. Questo evidentemente penalizzerà in modo importante le popolazioni residenti storiche e chi magari è da tanti anni in attesa, però ecco, stiamo ancora in attesa. Quando uscirà la nuova legge, magari mi piacerebbe anche riparlarne con voi, perché la vera storia, la vera politica industriale della nostra azienda non la facciamo noi, ma la fanno i comuni e soprattutto la Regione. Noi ci limitiamo a recepire e cose come queste possono stravolgere il sistema ERP come lo conosciamo. Benissimo, grazie. Io credo che il nostro tempo è praticamente esaurito, però ringraziamo davvero le preziosi testimonianze dei residenti delle case popolari qui di zona Tuortaia. Ringraziamo il presidente di Arezzo Casa, Lorenzo Roggi. Io ti restituisco la linea, Marastella. Grazie, Laria. Noi torniamo insieme tra pochissimo. Anche io mi unisco ai tuoi ringraziamenti, alle signore per la testimonianza e anche al presidente di Arezzo Casa, sempre disponibile. Poi appunto torneremo a parlare di queste novità appunto delle quali ci ha parlato Roggi. Adesso noi ci andiamo a vedere lo spuntino di Riccardo Ciccarelli insieme alla cooperativa Inquiete, antichi mestieri, nuove opportunità.